Ciao caro! Questo è il nostro canale di recensioni dei prodotti. Esaminiamo il meglio. Prodotto di qualità in tutta la ricerca di mercato. Abbiamo 5 anni. Di esperienza e molti tipi di revisione di prodotti di base di categoria. 95 abbonati parcent del nostro canale soddisfatti guardando il video delle recensioni. Ricerchiamo sempre sulla qualità del prodotto, sull'aspetto esteriore, sulla longevità. Facile da usare, prezzo ragionevole e molto altro ancora. Noi crediamo che tu. Guarda il mio video, troverai il prodotto che più ti aspetti. Ne sai di più. Questo prodotto, abbiamo fornito il collegamento nella casella della descrizione. Vogliamo aspettarti per favore. Iscriviti al nostro canale e metti mi piace. Invia la tua opinione nella casella dei commenti. Iniziamo il nostro video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardi completamente questo video e otterrai il prodotto che ti aspetti. Abbiamo fornito tutti i collegamenti ai prodotti nella casella della descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.